Pronto farmacia? Niente, siccome mi è finito il culo vici, mi è finito il culo vici, cosa posso fare? Ah, non ce ne sono più, quindi arriva fra un mese. E come faccio ora senza culo vici? Porca puttana. Non lo so, il problema è che ho dei dolori nello stomaco, siccome ho mangiato prima una lasagna, dopo una lasagna ho mangiato un De Paul al cioccolato e poi ho preso un Barack e quindi ho un po' lo stomaco scombussolato. Quindi niente da fare, il culo che ci è finito. Dove abito io? Qua a Milano, Inter, cioè a casa... qua a Milanello, Inter, a San Siro. Niente, quindi il culo è finito, ho capito, il culo vici è finito. Pazienza, vuol dire che mi arrangio. Pazienza, ne lo so perché sta lasagna mi ha buttato un poco pesante oggi, non tanto il De Paul e il Barack. Va bene, grazie, buonasera. È finito il culo vici, è finito, i prescritti, è finito, è finito. Tre polpette a uno, digerite questo polpettone e andate a fangulo, interisti, digerite questo polpettone, questa è la vera squadra, guardate questa qua, guardate il vero luogo, questa è la vera squadra, questa. Il culo non è eterno, come d'altronde tutte le cose nella vita, nulla è eterno. Il culo è finito, interisti, e ora... Salutate state minchia, non la capolista, salutate state minchia. Io ci avrei scommesso mille euro che avreste perso prima o poi. Tre uno, silenzio. Alla prossima, alla prossima dose di culo vici ragazzi.